Nasce il Comitato Tecnico Scientifico per i Giardini Parolini, ad istituirlo una delibera della Giunta Comunale che ha pensato di creare un gruppo di lavoro composto da esperti per garantire la manutenzione, la gestione e la promozione dello storico polmone verde cittadino. Il Comitato avrà solo parere consultivo e potrà dunque esprimere solo pareri non vincolanti. I suoi membri non riceveranno alcun compenso ma dovranno avere però particolari requisiti. Tra le competenze che si chiedono a chi si candiderà in qualche maniera a questo organo consultivo non vincolante oltre a competenze tipo paesaggistico, botanico o naturalistico in senso ampio, ha anche competenze di marketing territoriale perché la volontà è poi di sfruttare questo monumento il più possibile per attirare persone abbassando le grappa. La scelta dei componenti spetterà il Sindaco ma come verranno scelti i membri del Comitato? Sulla base di candidature e sulla base di candidature correlate ovviamente da curriculum quindi ci attendiamo nei prossimi giorni l'arrivo del curriculum di chi è interessato, fa parte di questo gruppo di consulenti per il Comune e poi il Sindaco con la Giunta vaglierà questo curriculum e ne sceglierà il numero da 3 o a 5. Intanto sono già in programma le prossime mosse per migliorare ulteriormente i giardini con la creazione di un orto botanico nell'area antistante Le Serre e il recupero del vecchio sistema di irrigazione ideato dallo stesso Parolini.